Buona giornata a tutti e a tutti. Noi siamo qui per celebrare una festa, 15 anni, quindi ringrazio il Presidente, il CDA e il Comitato Scientifico del CSMT. Una festa di un'impresa che è nata 15 anni fa ed è scaturiva da un progetto per la città di Brescia dell'inizio degli anni 2000, non dimentichiamelo. Già allora il sistema si era messo insieme, aveva delineato alcune proposte, tra cui il CSMT, un'impresa che era basata sull'esistenza dell'Università degli Studi, che è una realtà dove ci sono 1100 persone che ogni giorno fanno ricerca e formazione in un campus dell'innovazione dove girano migliaia di giovani. Un'università che mette oggi a disposizione, meglio da 15 anni, lo spazio affinché il CSMT possa vivere. Il CSMT è stato voluto per il trasferimento tecnologico, come diceva il Presidente della Camera di Commercio, ma questo è un obiettivo che ci sta davanti. Se leggete un articolo sul Corriere Brescia del 3 novembre, leggete che nella Startup di Milano 13 Startup hanno vinto, tutti i milanesi, zero bresciane. Perché noi non valorizziamo i prodotti della ricerca? Abbiamo davanti delle sfide. La prima, il PNRR. Noi stiamo per partecipare al primo bando che prevede due centri nazionali, mobilità sostenibile e biofarma. Lavoriamo su questi bandi. Come diceva il Sindaco, bisogna trovare le risorse quando ci sono i bandi. Facciamo sistema su questo. E mi permetto di concludere con la proposta di tre vaccinazioni. Fate prima quella contro il Covid, se non avete ancora fatto naturalmente. Poi altri tre vaccini. Un vaccino contro il provincialismo. Noi a Brescia ci tarpiamo da soli le ali perché soffriamo della competizione di Milano. E questo lo dobbiamo superare, altrimenti non realizzeremo nessun altro progetto. Dobbiamo fare sì che la Lombardia sia riconosciuta come un sesto d'Italia e non un ventunesimo delle regioni italiane. Dobbiamo lottare contro la frammentazione e vaccinarci. Quando il Presidente Mattarella è venuto a Brescia a inaugurare l'anno accademico dell'Università, ha detto e ha sposato il nostro slogan, nel futuro insieme, poi l'ha ripetuto anche qui davanti alla vittoria alata. Nel futuro insieme però ci è stato provato tante volte con gli Stati Generali all'inizio del 2000, con Brescia più qualche anno fa. Adesso bisogna che lavoriamo andando concretamente a fare passi in cui le sinergie si misurino quando dobbiamo portare a casa le risorse. Un terzo vaccino che mi è anche l'occasione per farvi gli auguri. Vacciniamoci contro il messianesimo. L'unico messia per i cristiani è quello di cui ricorrerà la nascita sabato prossimo e con questo vi auguro buon Natale.